Sei una grande artista ma soprattutto sei una grande donna, sei una donna speciale, veramente te lo dico con il cuore. Grazie, grazie, grazie a tutti. Vilma Goic, una forza della natura, resti con noi. Grazie, grazie. Grazie. Nino, Nino Taz, che sarà? Che sarà la grandezza di Vilma Goic, la grandezza di Vilma Goic, veramente una grande donna, hai detto cose giustissime, vero? Vero, vero, perché insomma vivere quel tipo di situazioni non è assolutamente facile e uscirne fuori ci vuole veramente un grande coraggio, una bella cosa però. Potremmo uscirne fuori con una battutina delle tue, dai. Alleggeriamo, alleggeriamo il momento, dai. Alleggeriamo che dicono che le donne invecchiando migliorano, è che toccherebbe guardarle con l'occhio dell'archeologo però. Ma che è successo questo periodo a casa tua, li trovi i calzini, le camicie stirate, trovi tutto? Riesco a trovare quasi tutto, ormai la ricerca la faccio così, ho le telecamere in camera da letto. Come le telecamere? Sì, perché adesso le metto sui cassetti, perché così controllo dove mia moglie mette i calzini con la telecamera, così vedo, stanno lì, ma anche nonostante la telecamera non li trovo. E quindi? E quindi mi faccio come tutti gli uomini, a mondo stanni i calzini, faccio sempre così. Non cambia mai niente a casa Pimino Taranto, però cambia la musica, cambia la musica, la vogliamo accogliere. Eccola qui. Un artista conosciuta. Con un applauso, l'accogliamo con un applauso. Che prima ha giocato con noi, con Tony Vinarelli, un artista proprio che ti sei divertita, che tutti amano per la musica partenopea, però ti stai cimentando anche in altro. Sì, sono alcuni anni che praticamente sto entrando nel mondo del ballo. È dal 2006 che è nato il mio primo lavoro discografico, appunto, tutto da ballo, Baila conmigo. E adesso Baila conmigo la vendetta, veramente ha un altro titolo questo CD, sì, che intitolerà Gabri, è una canzone del CD. Però questa sera canterò qualcosa che ha a che fare appunto con il ballo e sono due brani inediti tratti da questo CD. Il primo è una baciata, la seconda è un bellissimo tango. Una baciata solo sarà una carezza. È un tango. Lui va subito a ballare.